La nostra facoltà ha deciso di non accettare la delibera del senato accademico di opporsi attraverso una successiva delibera del consiglio di facoltà e quindi di non fare partire l'8 novembre come è stabilito precedentemente. La nostra è una sorta di provocazione, che travestiremo da operatori ecologici proprio a voler simboleggiare il fatto che al momento non possiamo svolgere lezioni, quindi abbiamo molto tempo libero a nostra disposizione, non per scelta nostra e quindi ci potremo dedicare al volontariato. In questo modo ovviamente possiamo fare conoscere il nostro problema anche al resto degli Atenei siciliani ed inoltre oggi avremo la possibilità anche di incontrare direttamente il Rettore e quindi di porre direttamente a lui le nostre domande, i nostri dubbi. Cosa vi aspettate che vi dica il Rettore? Già il Rettore comunque ha espresso la sua volontà di voler far partire al più presto l'anno accademico, quindi noi pensiamo di una sua risposta positiva e comunque noi cercheremo di fare pressione anche al Rettore appunto affinché possa accelerare i tempi, ad esempio per fare partire i bandi che possono in qualche modo coprire quelle materie rimaste scoperte e quindi permetterci finalmente di poter fare lezione.